Ciao a tutti, Cristian Valdelli, owned by Claudio Rizzola, created by Ambrosini for Horses. Adesso il numero di Sera 212, Cristian Valdelli con Step in the Night, un filio di Saturday Night Custom, e with these surprise checks, cabano di proprietà di Claudio Rizzola, elevato da Ambrosini for Horses. Grazie. 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 Grazie a tutti i modelli. Grazie. Per la scuola di Cristian Valdelli and step in the night, 2, 19.5, Vucenta Diccianove Mezzo. And we're going to draft 71, back to number 571, Giuseppe Prevosti and Mario...